Io penso che i governi tecnici non esistono, perché li deve votare il Parlamento. Non facciamo finta che esistono i governi tecnici, devono avere una maggioranza politica e questo governo deve fare delle cose. Il piano da presentare in Europa non è che può presentare il piano che gli pare. Ci sono delle condizionalità, degli obiettivi, vanno costruiti e va costruito investimenti per creare lavoro, per riformare il nostro Paese, per fare delle cose. Quindi c'è una discussione da fare. Quindi non è che i governi tecnici... Il tema è questo. In più ci sono dei problemi immediati, l'ha detto anche il Presidente della Repubblica stasera. Il 31 marzo scade il blocco dei licenziamenti. Se non c'è una proroga, non c'è una riforma dei ammortizzatori sociali, altro che 400.000 posti di lavoro che abbiamo perso in un anno, rischiamo altre situazioni. Quindi ci sono delle scelte da fare, ci sono degli indirizzi precisi. E aggiungo una cosa, bisogna ricostruire un rapporto di fiducia. A me la cosa che mi ha colpito del senatore Renzi, la dico in modo molto chiaro, al di là se doveva fare la quarantena, non quarantena, fate questo banale ragionamento. Noi abbiamo perso 400.000 posti di lavoro. C'è gente che prende poco più di 1.000 euro al mese, 80.000 euro se è il gettone che ho letto sui giornali che lui ha preso. C'è gente che per prenderli ci vogliono 5 anni di lavoro, non so se è chiaro. E quello torna in Italia e l'unica cosa che sa fare è fare la crisi di governo, non si capisce perché cosa. Quando dico che c'è un momento di irresponsabilità, vuol dire che tu devi ricostruire un rapporto anche con le persone che rappresenti, non so se è chiaro. Altrimenti non so cosa ci stai fare lì, perché non servi in questo momento. Noi non abbiamo bisogno di fenomeni, di furbi, di uomini solo al comando. Abbiamo bisogno di rivolgersi al paese. Io il messaggio che sento la necessità... Guardate che nella prima fase della pandemia, questo è il punto dove il governo aveva avuto un consenso, ha investito sulle parti sociali. Quando abbiamo fatto i protocolli alla sicurezza, quando abbiamo affrontato questi temi, ci si è rivolti agli imprenditori, ai lavoratori, il messaggio che è passato, è che bisognava difendere la salute per rilanciare il paese. Nella seconda parte di quest'anno, quando la discussione è diventata dentro al governo e non si capiva più che cosa succedeva fino ad arrivare alla crisi, c'è stata una rottura col paese, questo ha determinato la crisi. Allora io dico, l'occasione che abbiamo adesso è questa, di ricostruire una sintonia col paese, col mondo del lavoro, con le imprese, che vogliono uscire da questa situazione. E siccome abbiamo 300 miliardi in sei anni, vorrei che fosse chiaro, non è mai successo una cosa di questo genere.